Dopo l'accordo con la Regione Puglia per l'installazione di un nuovo dispositivo di sicurezza sulla tratta Barletta-Corato colpita dal disastro ferroviario dello scorso 12 luglio che è costato la vita a 23 persone, continuano i disagi per i pendolari obbligati al trasporto su gomma. Diverse le falle organizzative, gli interventi per la messa in sicurezza infatti, non avverranno prima di sei o sette mesi e l'avvicinarsi della data d'inizio delle attività scolastiche potrebbe generare problematiche ben più ampie rispetto a quelle già presenti. I pendolari andriesi sono certamente quelli più colpiti in quanto Ferro Tramviaria pochi giorni dopo la tragedia ha predisposto dei bus sostitutivi di aziende private con orari predefiniti dalle stazioni di Barletta e Corato ma nessun orario di partenza e arrivo dalla stazione di Andria. Sia sul portale di Ferro Tramviaria che in biglietteria non è indicato l'orario d'arrivo degli autobus in piazza Bersaglieri d'Italia e il ritardo degli stessi nella maggior parte dei casi non consente ai pendolari di prendere il corrispettivo treno dalla stazione di Corato in direzione Bari, causando ritardi a lavoro e disagi per chi deve raggiungere in maniera celere l'aeroporto. Altra problematica è quale inerente al ridotto numero degli autobus predisposti per coprire la tratta. In questo periodo durante tutto l'arco della giornata i bus sono stracolmi di gente e in diverse fasce orarie alcuni pendolari sono costretti ad aspettare quello successivo e in vista dell'inizio delle attività scolastiche la situazione potrebbe assumere contorni drammatici dato l'enorme afflusso di studenti. Non ultima è la questione dei sovraffalimenti di piazza Bersaglieri d'Italia. Gli autobus di ferro tramviaria, quelli sostitutivi, le autolinee andriesi, i bus STP e quelli delle ferrovie del Gargano transitano e fermano nella piazza della stazione causando spesso traffico sostenuto e manovre poco agevoli oltre alle corse dei pendolari che disorientati cercano di salire sul bus corretto. Una disorganizzazione strutturale a cui se non verranno trovate le giuste soluzioni potrebbero trasformare il viaggio dei pendolari in un autentico calvario.